Via libera del Consiglio regionale alla proposta di legge che contiene le norme di riconversione delle residenze sanitarie assistenziali di riabilitazione e gli hospice. L'approvazione è avvenuta con i voti favorevoli della maggioranza di centro-sinistra e dell'Udc e l'astensione del PDL. L'obiettivo è chiudere contemporaneamente gli ospedali come previsto nel piano di rientro 2010-2012 e dare nuovi servizi. Su proposta del consigliere del PDL Gianmarco Sudico è concordato con l'assessore alle politiche sanitarie Tommaso Fiore. Il Consiglio regionale ha approvato con i soli voti dei partiti di opposizione a quelli contrari di Selle e l'astensione di tutti gli altri partiti di maggioranza un ordine del giorno con cui il Consiglio regionale impegna la giunta regionale a redigere entro 60 giorni un piano di riconversione degli ospedali dismessi e invita l'assessore Fiore a relazionare nella commissione consigliare competente. L'intento nostro è quello di dare senso a questa legge e dare delle risposte concrete al territorio. Entro 60 giorni noi volevamo che si desse concretezza alla legge facendo un piano di riconversione degli ospedali dismessi. Questo con legge non è stato possibile, perlomeno impegniamo la giunta a fare questo piano e invitiamo l'assessore a relazionare in commissione sanità. L'assessore Fiore ha spiegato che si sta cercando di mettere dei tasselli laddove possibile, soprattutto nelle zone montane, disagiate in presenza di studi che dimostrano particolari bisogni della popolazione, in particolare degli anziani. Per il PD con questa legge, non una leggina come è stata definita dal centro-destra, sarà assicurata in tempi celeri l'attivazione dei servizi alternativi e sostitutivi alla chiusura degli ospedali. Il coordinatore dell'opposizione di centro-destra, Rocco Palese, ha espresso forti perplessità sulla contestualità fra dismissione e attivazione dei nuovi servizi. Per Palese è una legge sostanzialmente inutile sulla quale il PDL si è astenuto solo per non essere tacciato di voler ostacolare il processo di riconversione degli ospedali. Abbiamo dato la mano alla Puglia, ai cittadini, sia come trasparenza e sia come chiarezza rispetto a un problema della sanità, perché è giunto pure il momento che i pugliesi iniziano ad aprire gli occhi